Musica Dall'Europa oltre i 2 miliardi in consiglio il dibattito sulla gestione dei fondi europei dopo la comunicazione del presidente Gianni. Anno scolastico primo bilancio delle forze politiche a due settimane dalla ripresa delle elezioni in presenza in Toscana. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Gran parte dell'ultima seduta del Consiglio regionale è stata dedicata ai fondi europei dopo la comunicazione del presidente Gianni che ha annunciato le linee guida di gestione degli oltre 2 miliardi che arriveranno per la Toscana tra il 2021 e il 2027. La più ampia quota possibile di queste risorse, ha detto tra l'altro Gianni, sarà impiegata in investimenti e in particolare per il rilancio delle imprese e per il mondo del lavoro. Sentiamo il commento delle forze politiche. Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire, le risorse comunitarie certe queste sono sicure, dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro, consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità, consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo, ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale, rispetto agli impegni culturali. Dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo, con queste risorse faccia uno scatto in avanti, richiamo di queste ore, anche della richiesta dei giovani di avere più ambiente, una Toscana più innovativa e poi soprattutto infrastrutture e lavoro credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse. Quindi noi ci batteremo in questi anni per allocare queste risorse nel modo più congruo e utile per la Toscana. Abbiamo ascoltato la grande narrazione del Presidente Gianni in aula su un documento che ci è stato presentato una settimana scorsa, un documento che sostanzialmente fa una narrazione molto curiosa della situazione prepandemica e soprattutto prepandemica in Toscana e su quello sostanzialmente che deve essere il modo superandi per investire nel momento in cui andiamo a ripartire tutti assieme. Ora torneremo in aula a metà di ottobre e Fratelli d'Italia ha intenzione sostanzialmente di rispondere a questo papier presentato oggi dal Presidente Gianni con proposte sostanzialmente costruttive capaci di portare un contributo a una narrazione che rimane sostanzialmente fino ad oggi molto generica e sui generis. C'è intanto un dato di fatto positivo che mi fa piacere sottolineare. Evidentemente chi ha preceduto questa giunta o non era così tanto capace di fare le trattative in sede europea o in sede di Assemblea Stato-Regioni oppure non era in grado di spendere in maniera opportuna i soldi visto che il primo dato che ci è stato riferito è che la Toscana per i prossimi sette anni ha preso un terzo in più di fondi dall'Europa rispetto agli ultimi sette anni. Quindi il grande governatore Rossi che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana ne prendeva un terzo in meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Poi ci sono tutti i dati negativi. I dati negativi sono il fatto che la Regione Toscana è ancora lontana, anni luce, dalle regioni virtuose del nord sotto tanti aspetti. Le dico una su tutti. Si parla tanto di mobilità sostenibile. La Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale. La Lombardia ne ha il doppio. Il trasporto pubblico su gomma è ancora il trasporto pubblico predominante in Toscana nonostante sia la fonte maggiore di gas serra. Ed è ancora lontana, anni luce, la Toscana e la conversione sul trasporto ecosostenibile rispetto a delle regioni virtuose del nord. Si parla di adeguamento di strutture alla normativa antisismica ma si parla soltanto di strutture sanitarie e ospedaliere che per l'amor di Dio hanno bisogno di essere adeguata ma non c'è una parola o una sulle strutture scolastiche. Noi abbiamo ancora scuole in Toscana che sembrano essere uscite dal libro cuore dell'Ottocento. Quindi c'è ancora tanto da fare. La speranza è che, visto che sono arrivati tanti soldi, in tutto sono quasi 3 miliardi di euro da destinare alla regione toscana, che questa giunta faccia le scelte giuste. Noi dalla prossima volta saremo in aula con decine di proposte e vediamo quanti di queste saranno recepite dalla maggioranza. Si tratta di risorse importanti, le priorità sono quelle di aiutare la Toscana a ripartire dopo la pandemia. Ovviamente dovremo agire sui settori che sono trainanti per la Toscana, che sono quelli dell'export, ma anche quelli che invece vanno ad agire su un mercato che è rivolto alla domanda interna, che ha bisogno comunque di recuperare e di essere rilanciata. La cosa importante è che queste risorse, che comunque aiuteranno alla transizione verso un'economia maggiormente sostenibile, verso la digitalizzazione, per una migliore sanità, per una maggiore coesione sociale e quindi servizi che sono rivolti alle popolazioni più bisognose, ad iniziare dalla popolazione anziana. Tutte queste priorità, fra l'atto, coincidono con le priorità che sono contenute nelle sei missioni del PNRR. Quindi sarà importante cercare di armonizzare gli interventi, quindi avere un quadro complessivo di finanziamenti da dirottare sui settori finanziabili con il PNRR e invece finanziare altri settori non riconducibili alle provvidenze del PNRR da finanziare con la programmazione ordinaria o con i fondi aggiuntivi 30 miliardi che il Governo ha messo a disposizione. Quindi il ruolo della Regione sarà importante in questo senso, creare un'armonizzazione nel prevedere gli interventi verso le priorità con la coerenza alla possibilità di utilizzo di questi fondi che sta alla fonte e importante sarà anche aiutare tutti i soggetti che sono competenti a fare progettazioni perché sia per quanto riguarda il PNRR sia per quanto riguarda i fondi europei sarà importante sviluppare una capacità propositiva, una capacità progettuale. Da questo punto di vista noi abbiamo sollecitato in passato la creazione di un fondo per la progettazione, siamo a sollecitarlo nuovamente perché è importante non soltanto individuare linee strategiche, non soltanto creare un coordinamento ma soprattutto aiutare la Toscana ad essere maggiormente operativa per cogliere queste risorse. Ma è pronto, intanto sono arrivati tanti soldi che dalla comunicazione del Presidente andranno a sostegno. Io credo che è vero e giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende, è il nostro dovere, ma è anche il nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa dove c'è la vera economia. Ecco noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare, la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad essere, ad elevarsi a regione guida perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana e questo deve essere il messaggio, un messaggio propositivo e non un messaggio esclusivo di sostegno che serve, ma serve per poi dopo dare un indirizzo a tutto quello che deve essere l'economia della Toscana. A margine del Consiglio regionale le forze politiche hanno tracciato un primo bilancio a due settimane dalla riapertura delle scuole, in particolare sulla questione trasporti, ma anche su quella delle quarantene. Io sono d'accordo, sono d'accordo, c'è un atto nostro ormai approvato dal Consiglio che chiede anche l'utilizzo dei tamponi salivari, vedo che qualche scuola parte, credo dovrebbe partire tutta la Toscana, dovremmo semplificare la permanenza delle scuole dei ragazzi, bisogna arrivare a fare in modo che la didattica in presenza non si interrompa mai e quindi anche le quarantene devono essere più corte possibili, più circoscritte, non bisogna mai fermare la didattica, quindi io sono favorevole per quarantene mirate, non per quarantene di classe o di istituti, sempre presenza, sempre alleggerire il peso sui ragazzi per arrivare poi a un certo punto a rendere strutturali i tamponi salivari e quando possibile anche con congruo distanziamento consentire ai ragazzi di non utilizzare la mascherina, penso soprattutto negli orari di divertimento, quando vanno un po' di svago vanno all'aperto, anche per quei 20 minuti giornalieri, credo che bisogna ridare segnali di normalità in un contesto per cui è evidente che è importante vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi e quindi non accetto che ci siano 3 milioni di persone o 2 milioni di persone che oltre 50 anni non si siano vaccinate e poi i bambini ancora con la mascherina nelle scuole a soffrire dei distanziamenti, quindi hanno il rispetto soprattutto dei ragazzi che noi dobbiamo lavorare per far tornare e mantenere la didattica in presenza e un ritorno quanto prima alla normalità. Allora, diciamo che in Italia questa fase è piuttosto preoccupante perché a due settimane dalla ripresa della scuola sono molte le quarantene negli istituti scolastici. In Toscana non siamo in una condizione così preoccupante, diciamo, ecco, anche se i numeri chiaramente stanno cominciando ad attirare l'attenzione. Il tema più che altro è quello delle modalità di applicazione della quarantena che la legge prevede perché al momento ancora, nel caso di un alunno positivo, si mette in quarantena obbligata tutta la classe, spesso senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati o con una distinzione di pochi giorni, sette giorni in un caso, dieci giorni nell'altro. Si stanno studiando correttivi a questo dispositivo. Uno dei più promossi è quello della cosiddetta quarantena aereo che prevede la messa in quarantena soltanto di coloro che in base a una individuazione più o meno attendibile dei flussi d'aria negli ambienti isolerebbe soltanto i contatti strettissimi, i compagni di banco e le persone più vicine all'alunno in questione nel caso fosse positivo. Rimane chiaramente un forte dubbio per quanto riguarda i tempi di pausa perché in quel caso gli alunni si muovono, vanno nei corridoi e quindi questo complicherebbe la valutazione e il tema degli insegnanti perché gli insegnanti vanno in più classi spesso e quindi attualmente in caso di positività di un insegnante si mettono addirittura in quarantena anche fino a nove classi per insegnante nel caso degli insegnanti di educazione fisica. Nella diversa modalità si potrebbe forse intervenire in modo più chirurgico. L'attenzione è quella di alleggerire il peso delle quarantene per scongiurare l'ipotesi di un ritorno alla DAD che è invece lo spettro che tutti vorrebbero evitare e che invece se le cose continuassero con questa modalità diventa inevitabilmente un orizzonte più probabile perché mettendo in quarantena classi intere e insegnanti che hanno più classi diventa necessario poi provvedere a una didattica in forme diverse. Il punto di vista del Movimento 5 Stelle è stato sempre quello di seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico quindi se il Comitato Tecnico Scientifico alla luce delle percentuali di persone vaccinate dà un certo tipo di indicazioni noi siamo assolutamente favorevoli. Purtroppo c'è ancora un bel nodo del trasporto pubblico perché noi in Toscana scontiamo parecchio questo problema un po' dovuto anche all'avvicendamento, a tutti i ricorsi al TAR, a tutte le vicende giudiziarie che ci hanno visto penalizzati da questo punto di vista. Si spera che a novembre finalmente ci sia il passaggio ad Autoline Toscane e si arrivi a una pacificazione, a un'implementazione del servizio perché non ci possiamo più permettere che di queste diatribe ne facciano spese i cittadini. I territori periferici sono i più penalizzati ed è difficile anche organizzare per le famiglie i trasporti con i figli, il lavoro, insomma non si può più andare avanti così. Quindi vediamo e speriamo che a novembre tutto venga finalmente normalizzato. Di soluzioni improvvisate su questa pandemia ne abbiamo viste talmente tante che ormai non ci meravigliamo di niente. Abbiamo visto i distanziamenti passare da due metri a un metro, passare sui treni regionali, non ci vuole il Green Pass e si può stare tutti ammassati, ma sui Frecciarossa dove i posti sono prenotati e si è già distanziati dagli altri invece ci vuole il Green Pass. Quindi di provvedimenti di ogni genere e tipo, quindi nel discorso quarantena light, quarantena normale, il problema è un altro. Il problema è che in un anno non è stato fatto assolutamente niente per la scuola, non è stato fatto niente di quello che era stato promesso per la scuola, se non provvedimenti inutili come quello di diminuire da due metri a un metro il distanziamento tra i banchi e la cattedra. Come se quest'anno il Covid fosse stanco, non riuscisse più a saltare di due metri, ora salta solo di uno. Quindi credo che rientri in questi provvedimenti senza spiegazione. L'unica novità, per fortuna, e questa sono felice che finalmente sia arrivata, è quella dei tamponi salivari, cioè dei test salivari, perché comunque almeno chi ha necessità di utilizzare questo strumento non deve ricorrere all'invasivo tampone oreo faringeo. Questa credo sia l'unica novità. I mezzi pubblici non viaggiano assolutamente con le capienze ridotte, basta avere un po' di onestà intellettuale e farsi un giro su un treno regionale piuttosto che sulla tramvia o su un autobus a Firenze. I mezzi sono strapieni. Noi abbiamo fatto la settimana scorsa un viaggio tra Chiusi e Firenze una mattina all'orario dei pendolari. Il treno regionale non c'entravamo da quante persone c'erano, tutte stipate, molti con la mascherina abbassata sotto il naso e senza green pass. Quindi di cosa stiamo parlando? Siamo ancora lontani da ottenere dei risultati accettabili da questo punto di vista. Per i trasporti so, per riportato da persone, che i treni sono piuttosto affollati. Per i pullman penso che i pullman messi in più a disposizione abbiano in parte alleggerito la problematica. Per quanto riguarda i contagi, leggevamo stamani 3.900 alunni contagiati. Questo vuol dire troppe classi in dad. Io credo che nelle classi dove il distanziamento c'è non occorra mettere tutta la classe se c'è un caso positivo. Bisognerebbe forse mettere i compagni vicini. Non lo so perché i ragazzini stanno con le mascherine. In una classe dove dico se la distanza è quella conforme non c'è bisogno di mettere tutti. Altrimenti anche l'insegnante, anche il collegio dei docenti perché l'insegnante va nel collegio dei docenti e quindi si va a finire tutta la scuola. Bisogna trovare qualcos'altro per sopperire alla dad. Non si può ritornare alla dad per tutti, assolutamente. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Grazie per l'attenzione e buona serata.